10 in destra 3 50 sinistra 3 più 20 la fine Rai tornante destro di leva sinistra piena tornante sinistro destra piena in accendo sinistro in tornante destro 50 vista destra 3 per sinistra 2 chiude sinistra 2 chiude per sinistra 3 più 2 tempi per sinistra 3 in destra 3 in sinistra 3 più subito destra 3 sinistra 3 più subito destra 3 20 a cartello tornante destro di leva sinistra piena 50 vista tornante sinistro in destra piena 20 sinistra 3 più in sinistra 2 più 20 destra 4 20 destra 3 più subito sinistra 2 più destra 3 più subito sinistra 2 più in accedo destra in sinistra 3 subito destra 3 subito sinistra 3 subito sinistra 3 destra 4 per destra 2 più ecco il destra 4 poi per destra 2 più 20 alla ringhiera destra 3 3 più sul bivio destra 3 3 più sul bivio in sinistra piena in destra piena per sinistra 4 per sinistra 4 in accedo sinistro in tornante destro per tornante sinistro dai che andiamo via di qua tornante sinistro per destra piena per destra 4 lunga subito sinistra 3 più destra 4 lunga subito sinistra 3 più 80 vista all'albero sinistra 3 all'albero sinistra 3 subito destra 3 più sinistra 3 subito destra 3 più in sinistra 3 per destra piena in destra 3 più destra 3 più questo per sinistra 3 20 accendo sinistro in destra 3 più accendo sinistro in destra 3 più in, destra 3 non tagliare in, distra 3 subito destra 3, non tagliare 30 distra 3, rotta destra 3, rotto per, destra 3 più, tieni subito distra 4, è 50 distra 4, 20 lo sto pieno, 80 a cartello destra 3 più 30 sinistra 3, tieni subito destra 3 più, 3 tieni, subito destra 3 più apre, linea sinistra piena, 50 vista sinistra 3 a su, sinistra 3 3 linea, destra piena, per tornante destra piena, per tornante destro l'ho detto 3, destra piena, per tornante destro 40 sinistra 3, in, sinistra 4 20 destra 4, 40 a rai, tornante sinistro sporco e rotto 20 sinistra piena 40 destra 2 più subito sinistra 2 più destra 2 più subito sinistra 2 più distra 3 più scusa in, destra 3 più 80 mista tenta non bucare questo qua eh all'albero si sta 4 per il centro sinistro in, destra 4 in, attento sinistro in, sinistra 3 più in, sinistra 3 più con tanta vista all'albero il gallo si sta 3 più 40 ecco il gallo con, sinistra 3 più 40 destra 3 più lassù 20 a cartello si sta 3 più in, accendo destro in, sinistra 3 discida 30 destra 3 più 40 destra 5 destra 3 più 40 destra 5 30 mista destra 3 più breve vicina 3 più breve vicina sud sinistra 3 più 30 destra 4 20 destra 3 più a cartello sinistra 3 sud tornante sinistro sporco e vicino può mettere in moto? no no perché staccato tutto direvo c'è indra grazie a tutti